Un Master di Eccellenza con relatori di eccellenza, quello che si è svolto nell'Aura Magna della Facoltà di Medicina dell'Università di Bari e che ha siglato la stretta collaborazione di intenti tra la New York University e l'Università di Bari. Il Congresso internazionale rientra negli stage di perfezionamento in Oral Rehabilitation Implantology Clinical Orthodontics. Tra gli appuntamenti nel corso del Congresso il Master internazionale di secondo livello sulla chirurgia orale avanzata e sulla chirurgia implantare che ha visto l'avvicendamento di relatori importanti. Grande apprezzamento per l'iniziativa è stata espressa dal Rettore dell'Università di Bari Antonio Felice Uricchio. È una bella opportunità per noi poterci confrontare con docenti di assoluto valore come i colleghi della New York University. Il percorso formativo si colloca all'interno di una stretta collaborazione fra l'Università di Bari e la New York University che peraltro si sviluppa su molti ambiti disciplinari. L'equip coordinata dal professor Francesco Inchingolo, composta dal professor Savero Ravazzolo e dal professor Dean Vafiadis, ha sviscerato argomentazioni per gli studenti di apprendimento delle tecniche digitalizzate CAD CAM di rilevamento dell'anatomia di base pre-estrattiva. Concludiamo con l'evento internazionale, il congresso internazionale organizzato per la prima volta qui a Bari con la New York University. Quindi questo è l'inizio di un rapporto di collaborazione che dovremmo ancora discutere, ma ci sono tutti i presupposti per iniziare un lavoro capillare anche sulla parte pratica e non solo sulla parte teorica. Da quest'anno iniziamo questo percorso su Bari. Nel prossimo anno avremo altri eventi insieme alla New York University.